Resident Evil 2 Remake Clare parte 8 continuo quello che avevo lasciato ovvero devo finire delle cose in area ovest che è qua lei è ferita vedo ma non la curo per ora perché ho poche cure forse per niente ancora ce la fa quando corre ancora più lenta allora se attenzione dice ora corre velocità media diciamo certo se è in buona salute correrebbe ancora meglio allora andiamo la serra che è qua la serra che è qua la serra che è qua io devo prendere quella tessera lì che non prenderò ora allora vediamo la serra che è qua intanto qui è presto si perché ci vuole quella tessera che ha in mano questo non lo so astronauta questo mi fa il video a qualche modo allora devo tornare alla botola alla botola queste piante camminanti queste piante camminanti queste piante camminanti vanno uccise con pallottole incendiare altrimenti si rigenerano sempre si rigenerano sempre allora vuole un altro codice vuole un altro codice per aprire per aprire quella botola ok poi 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 era questo ti dice che hai finito era questo il codice da immettere qui perché qui non puoi fare tutto in una volta ci devi tornare quindi allora questo si alza va fatto fuori se la prima volta lo facevo fuori ma se scappo c'ha dei punti deboli risparmio munizioni eh ma dopo te lo ritrovi ok però ma aspetta prendi queste eccoci qua no vanno ammazzati ti dice vanno ammazzati perché ti romperanno le scatole sempre la botola era qui non so se mi ha preso allora la botola era qui hanno anche dei punti deboli che puoi non sprecarci no non era vera quell'altro guarda non puoi anche non sprecarci il lancia granate che è prezioso però ovviamente con quell'altri colpi ci vuole di più dove sei? è di qua guarda quanti posti c'ho? prendila dai allora io ho aperto questa roba ok qui c'era mezza combinazione però ho trovato l'ho trovata di là l'ho trovata di là completa in quel piedistallo qui e ho capito qui la devi fare venire pare devi giocare devi giocare con questa roba ci può stare anche un'ora d'orologio che può stare anche un'ora d'orologio a questo punto io ho la mia soluzione completa me la rimetto qui me la rimetto qui e e e e e mica c'era mica c'era granata perchè non me la metti di qua scusa meno spazio allora con questo flacone pieno credo sia pronto in questa serra in questo giardino non ci dovrei tornare più ho lasciato una pianta blu e basta allora no ci devo tornare sì perchè devo prendere poi quella roba lassù quella roba lassù si libera soltanto prendila dai tanto così mi dà l'area oddio questo per ora no me lo fa evitare e dopo però ce lo ritrovo e pazienza dai allora computer niente si va via ho finito ho finito devo tornare in quell'area ok una volta bruciati ed ho fatto bene allora venivo da qui dove è l'uscita che non la vedo cioè per forza qui allora questo io dopo lo prendo da qui ma dopo intanto butta questo flacone tanta donna salvata allora donna salvata e pianta blu per ora inutile lascia le guardie le combino ci avevo ci avevo la mitraglietta ci avevo vediamo non è rimasto il fucile il fucile con aghi elettrici però vuole due slot e prendi la polvere la polvere da spagli elettrici dai così facendo c'ho solo due slot poso e ma se fra poco c'è non vanno bene ha detto si si l'ho caricati dov'è no che non l'ho no ho combinato un'altra cosa cosa ho perché ricarica scusa dai c'ha tre posti dai allora e dove è la strada devo tornare in quella cavolo di stanza che non è qui rimane 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 di qua c'ero ora tutto giuart e di a destra facciamo a capis c'è tre porte poi veloce no veloce veloce ritornano comunque tanto dopo il ritorno dai ti devo prendere no guarda con questa non ha senso con la munizione gialla torneresti in vita magari non subito ma ci torneresti perché ci vuole l'incendiaria per fare secche come questi lurker che ho lurker che ho ucciso con l'incendiaria allora io metto questa roba qui che ora è completa ok in questa stanza gelante ora è completa almeno lo spero il flacone è la soluzione ok ecco ecco e ora ah la devo riportare là ok aspetta mi sa che la devo riportare dove ero ora in quel giardino che l'avevo presa lì però era incompleta ora ce la devo riportare completa me lo credo ok me lo restituisce ok ora grazie ora nel giardino ci farà qualcosa è ancora rossa l'area mi segna una munizione di qua che prendo volentieri un'altra la ho in cassaforte ecco questa munizione dove è l'uscita computer basta computer basta devo ritornare a quella serra dai a quella serra la strada non è allora questo lo ammazzo strada più veloce questo lo ammazzo pace era qui guarda il tipo stavolta mi vede però te lo metti di spalle non te lo mette niente chi è mi dai eh vedi questo è scopio ritardato gli riprendi il coltello ci ha sprecato una munizione me ne vado quindi mi tornare sono nell'area SAFE a questo punto mi prendo le altre munizioni queste poi nella casa nella parte precedente quando mi faceva tornare era perché avevo questi rullini da usare e in più il distintivo starse non ho finito ho capito dove andava messo tieni a risalva ho capito dove andava messo però non ci avevo fatto caso la prima volta quando sono passato allora qui c'è un flacone no nella parte dopo allora io devo prendere questa devo prendere questa qui li ha fatti fuori si a modo mio il flacone che era qui la prima volta l'ho preso vuoto quello ancora lì che gira gira perché non gli ho dato l'incendiaria dove sei flacone 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 pieno flacone pieno dove il flacone che mi ha restituito questo vabbè ora non c'è errore ecco fino a qui si fa ok oh e vediamo a che serviva questa roba miscelata a buttare giù eccoci qua quell'astronauta che in mano un attimo un attimo ok ok ha la tessera di livello superiore ancora level 4 level io c'ho level 2 o level 3 addosso quello mi aggiorna aspetta che ora c'è ancora gente però io me ne vado se vuoi uno sparo te lo do non vuoi niente dov'è 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 allora qui è cambiato tutto intanto ah mi sa che sono morte quelle piante no non sono morte assolutamente anche se gli ha fatto il bagno di qualcuno ah sono tornate qui non puoi evitare scoppio ritardato uno mi basta ecco la riguerta questo combino ora level 3 arriva fino al level 4 ho capito ottiene la gente per arrivare ok ok ho capito dove va questa siccome c'è altri due non posso rifiutarmi ma guarda si spreca anche questo le prendono un colpo solo se facevo più veloce te sei già morto se facevo più veloce oh qui le aveva dato un coltello tanto tempo fa qui ho finito è tutto blu si non ci piove si va via non sto tanto bene a munizioni non sto tanto bene a un altro questo non ha tollerato tanti coltelli c'ho guarda te ti lascio si guarda che magari una munizione in pratica si è risvegliato tutti perché le incendiare sono ci sono altre le incendiare sono più rare qui è proprio finito oppure anche qui ecco ora qui devo interagire non ci ho mai interagito allora io il bracciale ce l'ho addosso qui non ci devo fare più niente quindi col bracciale addosso mi levo da questo posto mi levo da questo posto non credo di avere più niente ah questo non l'ho finito però non me lo fa buttare forse ho lasciato un posto però che ci posso fare due coltelli va bene così al prezzo di una munizione in meno mi da il ponte grazie qui ancora così è sempre stato così questa zona non mi interessa a questo punto quale mi manca di ponti ci ho aperto qui ho salvato sì questo sarà level 3 no non ce la faccio allora ce n'è un altro allora questo l'ho fatto eccole qui questo questo è un altro ancora accesso consentito ok si va di qua cosa lo vedremo poi deve trovare l'agente antivirale ok quindi dopo c'è un altro ascensore e dopo c'è un altro ascensore con questa tessera permetti di aprire varie cose videocassetta si mette qui mi rimane tre slot poi ancora mi dai questa grazie grazie tre qui è tutto nuovo da esplorare tutto senza altro ci sarà un salvataggio senza altro allora ah ecco dove andava l'ultimo oh si butta anche questo oss 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 no ma mi sa che ci sono ancora altri perché tanto pensiamo a qui oss quasi 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 eccoci qua eccoci qua veloce usa oss non so se me lo fa fin ah qualcosa è successo però più della luce non mi accende qui che succede ah la videocassetta oh net allora william birkin praticamente è quel boss di prima di tiene sta cassetta veloce oh discard ok allora ho finito con quell'area di eto tra parentesi do un'occhiata veloce a questa cassetta anche se mi interessa poco vabbè questo tanto ho già capito cos'è è william birkin che diventa piano piano quel mostro che è oggi che fa vedere come è diventato questo è il boss che l'ho incontrato due volte nell'arco del gioco la prima nella casa oltre al taeran e la seconda è nella parte precedente credo che qui diventa boss diventa si trasforma in mostro c'è una valicetta credo che vi fa fuori c'è una valicetta importante vediamo credo che se si rialza sono affari vostri invece è tutto ok ed avrà un po' mi sa diventa mostro diventa per ora è così ti fa vedere che egli ha preso moella e ti ringrazio me la scarti per favore 4 slot non ho un cavolo di munizioni allora qui quei rollini non li ho più usati stavo pensando che non ho trovato la chiave di fiori nella casa forse era facoltativa videoregistratura l'ho messa la cassetta cristo come mai mi segno da prendere altri oggetti vabbè qui ci tornerò è meglio che guardo meglio perché mi segna io ho cose da fare qui cosa mi manca cosa non vedo cosa non vedo cosa non vedo è rossa c'è un oggetto da prendere che non mi fa vedere la cassetta non la rimetto venivo da qua ho preso tutto eeeh ti dice che ancora non hai finito col videoregistratore vabbè guarda andiamo l'oggetto in terra non lo vedo se c'è non ho icone non ho allora qui la cosa interessante c'è area di finale anche se mi sembra presto allora sono da un'altra parte giusto si sono da un'altra parte ma non ho un'erba e allora il corridoio la stanza era ancora rossa però qui c'è area di qualche fight questo è tutto esperimento dell'ombrella del cosa vuole qui non ho idea allora il flacone non ce l'ho più cosa vorrà per ora niente filmato però filmato cosa cercava lei qui ci vuole inserire qualcosa ce l'ha ah ma era un giuntolo c'era lei addosso dall'inizio del gioco ah allora lei cercava questo ok però non credo le cose finiscono torna da sherry ho capito e di quanto ci vado a vedere che c'era un salvataggio ecco quindi più oh le prendo poi queste le vedo bene un salvataggio e ho l'impressione inutile ok pianta rossa ho l'impressione non ci torno tanto facilmente qui c'è una cura però un'erba rossa la porto dai devo risalvare qui che c'è niente è tutto blu tutto blu guarda poso poso la pianta rossa no non mi dà noia non mi dà noia salvo perché all'indietro non credo sia tutto rosa e fiore andiamo spediti io cercavo questo basta ah si che torna da sherry torna da sherry torniamo da sherry fatto sta mi manca ancora eccoci qua la sorpresa meno male l'ho salvato allora intanto scappo se poi non dovevo scappare lo affronto oh la bionda è suo marito vedi è suo marito l'ho capito e william eh c'è anche la faccia la bionda è magicamente qui a lei non gli fa niente questa è la sua moglie non credo sia morto così eh l'avevo capito qui c'è tu svella tutta la storia perché siamo in area di finale fatto sta io poche munizioni non ho niente ecco la storia che la spiega allora allora una pistola lui non può morire almeno non con la pistola eh ma dopo si è mutato roba del genere vediamo cosa succede dai tanto ho l'impressione che me lo ritrovo che lavoro ho ancora eccolo eccolo addio la moglie che la moglie muore qui questa è la storia di Claire tra parentesi le onde non si è più pensa vai a lei non gli faceva niente c'è una bella magnum in mano se la dà a me così che non fa sconti nemmeno a lei nemmeno alla moglie se la dà a me quella pistola certo è violento sto gioco eh ma tanto non gli fai credo che me la vedrò io con lui allora da Sherry cambio di piani non ci si va invece ci si va che è ah l'antidoto per Sherry giustamente cercava allora tocca a me mi dà quella pistola in mano per favore lui deve sopravvivere oddio no lui da studiata la cosa basta di farmi vedere che c'è di qua fammi vedere no non credo sia la cosa non credo che la cosa sia che l'affronti a corpo a corpo però ecco devo capire la strategia dai sta tirando della roba che mi offre qui una granata stordente questo è una carrucola e si va via per ora presto ti dice via non ci vai quindi non sapevo non ho cure allora dammi quindi nonostante ho nonostante ho eh qui devo vedere la strategia queste le prendo queste le prendo nonostante ho e qua c'ho altro come lo uccido come lo allora ora cerco la prossima volta appena rimuoio gli scarico tutto addosso credo gli scarico addosso subito anche se non so se muore c'è un occhio lo vedo non so se muore a forza di colpi oppure allora fammi dire che solo quando quando esparra il suo punto debole qui non estrae niente non c'è un punto debole ogni tanto si vede l'area l'ho esplorata abbastanza senza una cura senza le granate ma non me le fa usare non qui non ho punti debole non ho che fai dove vai con quello addosso a me e mi ha anche preso qui continuo a parte che continuo dove l'hai l'occhio dove l'hai con tutte quelle granate che ho preso con tutta quella roba non ho una cura lo uso subito videocassetta basta finito nonostante mi segnava ancora l'area rossa allora dammi questo c'è ancora roba per me questo non mi piace che ridai questo ma quanta roba c'è qui grazie carica qualcosa fare qualcosa perché non ho idea come muore non ho idea come muore se trova qualche oggetto più interessante non ho consigli con quella cavolo di c'è la magnum però ecco ecco ho capito è qui nell'occhio guarda quando prende sta roba lo vedo è ora fino a qui ho capito ha richiuso il suo punto il suo punto debole ho capito quando prende queste ah ce n'ha altri però tutti gli occhi li devo far fuori ho capito tardi ma ho capito ho capito tardi prima non li vedevo però prima non li vedevo con uno sparai solo non li fa carica davanti ho capito tardi se li fai così dopo prendi questa quale manca vabbè vabbè ho perso dai riprovo ora riprovo allora riproviamo riproviamo lui ha dei punti deboli lui ha dei punti deboli la magnum ha degli occhi che sono tutto scarico salta il filmato lui ha dei punti deboli che ogni tanto espone a tanti occhi vanno fatti fuori tutti e porco cane non c'ho munizioni non ho carica sta roba in qualche modo carica sta roba e ti vedo tolleri ok il secondo occhio ho visto il terzo occhio e poi non l'ho preso allora lo spray era da qualche parte oh niente non so che è successo è andata meglio a me che a lui però se mi prende mi fa male c'era uno spray eccolo qui lo spray ho visto è munizione dai e butta le scartami sta roba prendi queste ora è da usare questo lo spray meglio lo spray perché l'erba blu ha una proprietà in più ah mi fa più veloce non l'ho preso l'erba blu almeno mi cura anche dal veleno oltre che ripienarmi la solita energia si questi ci siamo però ho capito non dovevo fare cose dove sei non ti vedo mica più spara queste che fottuta magnum fottuta magnum fottuta magnum oh perfetto ce lo scarico perfetto 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 ce lo scarico allora andiamo andiamo riproviamo salti filmato te ne vai non lo so a prendere le prime cose che trovi qui è pieno di roba tra cui tra cui uno spray tra cui tra cui è pieno di occhi da colpire tutti i punti deboli ma non ti fa fare gli affari tuoi non ti fa fare gli affari tuoi usa questo usa ah ah guarda è interessante questo se ti hai pigiato adesso non lo so usare non ti ci no oh vai vai si me l'ha preso guarda sta roba ora si trova lo spray è meglio non mi segna niente però sta stanza ha fatto stare piena di roba tranne un punto che è questo quanto prima io niente non ho mai sposto niente mi carichi anche questo mi carichi guarda che c'ho addosso la mitraglietta ah aspetta io volevo questo volevo come mai mi ha posato colpaggiami sta roba ora mi prende ok quella mi tira addosso quella roba mi manca ancora da trovare lo spray che non è qui e allora dove non so se si fa male da solo non so per ora lasciamolo stare eccoci qua quanti ne hai ti ha preso ti ha preso ha preso tutti e due ha preso mi fai passare per favore che in qualche modo ti devo buttare giù no non l'ha sentito stavo bugato stavo bugato bugato il colpo porco cane non ce l'ha non ce l'ha guarda ora il punto debole non ce l'ha tutto zero tutto zero dove sei dove sei eh ma questo è il resto di te è il resto di te è quello che è il colpo però io ho quasi perso non lo so ha buttato giù quanta roba ti devi nascondere qui ok perfetto ho schivato credo ma che ho schivato questa ti fa male questa ti fa male ti fa male come sei c'ho la magnum ora però c'ho la magnum non gliene frega niente se c'ho la magnum eh beh tutta volta le sentite vai è cotto è cotto è cotto è cotto è filmato sì ovviamente ci hai voluto tutto eh sì ci hai voluto tutto l'arsenale avevo addosso sto concio come un cane carico quello che vedo quello che c'ho quello che c'ho allora minaccia naturalizzata mi dai è morto diciamo di sì mi fai vedere cosa ho lasciato allora ti dice devo andare dalle appena trovo il punto di salvataggio ostacola parte c'è area di finale allora sì come ora per lo sono disturbato per bene finché diventa tutto blu cioè ora carico qui carico qui la mitraglietta la porta per bellezza non ce l'avevo va bene vent'aria ci mettevo altro ah qui torno in superficie ok torniamo da shelly torniamo da shelly ci si prova io non mi posso curare però sì da shelly c'è un salvataggio però eh ecco perché qui era rosso ora non è più no qui è una pianta blu cosa me ne farò mai delle piante blu qui era rosso ah per questa guarda pianta blu pianta blu vediamo se è rosso ancora era per questa fottuta pianta blu che non è nemmeno verde qui ho tutto guarda qui non posso nemmeno combinare però posso combinare queste no queste non mi hanno stordente stordente aiutato per niente dov'è il lancia fai così salvi dov'è il salvataggio l'ho sognato la macchina la scrive qui c'è solo la botola c'è solo la ho capito qui c'è solo la botola prendi la pianta blu per vedere se era l'ultimo oggetto si ora è tutto blu allora qui c'è solo la casa oggetti della pianta blu ne faccio meno di zero la mitraglietta non posso combinar niente perché ok non credo mi serve niente non credo mi serve niente e vado via senza salvare mi ha detto perché non ho notata la macchina da scrivere allora devo tornare da Shelly parecchio malconcio allora devo tornare da Shelly ok dopodiché si ormai è zona safe guarda Shelly è è qui guarda Shelly devo tornare da Shelly c'è re dopodiché che sta con la parte c'è area di finale eh comunque era subito guarda ok allora guarda per fare prima tiene infine parte attuale c'è Grazie.